Dobbiamo dire basta le estrazioni in Adriatico perché sono senza limiti temporali e soprattutto a costi veramente irrisori a carico di chi estrae gas e petrolio. Salviamo il mare, no alle estrazioni, no alle trivellazioni perché il vero petrolio per noi è il turismo. Il 17 aprile andrò a votare il referendum, voterò sì perché sono contro le trivellazioni perché penso che il mare debba essere ridonato alla natura e debba essere ovviamente elemento di attività umane quali la pesca, il turismo ed altre attività e non sicuramente di perforazioni, trivellazioni, estrazioni di petrolio e gas che nulla hanno a che vedere con l'ambiente marino.